Dopo la vittoriosa trasferta di Terni che ha regalato al Palermo il raggiungimento degli 85 punti, la squadra di Iachini ha ripreso nella giornata di oggi gli allenamenti in vista dell'ultima di campionato contro il Crotone in programma venerdì sera allo Stadio Barbera per i giocatori che hanno affrontato la formazione rosso-verde ieri sera. Lavoro di scarico sul terreno di gioco dello Stadio Renzo Barbera per tutti gli altri seduta normale con lavoro atletico ed esercitazioni di carattere tecnico prima di una partita finale in porzione ridotta del campo. Lavoro differenziato programmato per Renzo Maresca e Kyle Afferti. La marcia di avvicinamento alla sfida contro i calabresi proseguirà domani mattina a Bocca di Falco.